Ritorno solo per voi, per gli aggiornamenti del bodybuilding che ci piacciono tanto comunque Michael Lockheed ha vinto il Chicago Pro Wings of Strength secondo posto Charles Griffin, terzo Esau Baid, quarto Lucas Osladil ha vinto a mani basse diciamo perché ho visto la scorecard, adesso non so se la trovo o se ve la metto comunque sti gazzi se non ve la metto ha vinto a mani basse perché comunque ha fatto punteggio pieno nel senso che tutti i giudici gli hanno dato il primo posto e tutti i giudici hanno dato il secondo posto a Charles Griffin però devo dire che a me Michael Lockheed non fa impazzire in generale penso sia migliato un po' di gambe però strutturalmente mi piace di più Charles Griffin anche se è un po' meno estetico, è un po' più blocky quindi una struttura un po' più grossa un po' tipo Jay Cutler, è il classico bodybuilder che viene ritenuto blocky quindi vita un po' larga, più massiccio e ha qualche problemino forse nella zona addominale non tanto distensione perché in alcune pose magari può sembrare così però più che altro in quanto visibilità degli addominali mettiamola così quindi magari quello può averlo ostacolato un po' nonostante a me piaccia di più come completezza del fisico soprattutto nelle pose posteriori quindi probabilmente era un contest che poteva andare in entrambi i modi e non penso che nessuno si sarebbe lamentato però io li vedo più o meno allo stesso livello guardando le foto forse Michael Lockett è un po' più definito e questo può avergli dato il vantaggio principale come succede sempre nel bodybuilding però diciamo che poteva andare un po' in entrambi i modi non ci lamentiamo e non ci stupiamo troppo quindi un buon risultato per Michael Lockett che va al Mister Olimpia e non l'avrei visto male anche una vittoria di, come ha detto, Charles Griffin poi per il resto questi sono show minori come sappiamo che servono non tanto per far punti perché punti non ne danno granché a meno che uno non ne faccia 10.000 però quanto per qualificarsi al Mister Olimpia che è la cosa più importante, lo sappiamo per il resto se qualcuno di voi ha letto il post che ho messo nella community di YouTube perché YouTube ha anche una community non so quanto sarò presente su YouTube spero di esserci più possibile mettiamola così sino al al Mister Olimpia almeno però penso che mi limiterò a commentare gli show e le notizie più importanti non penso che farò molti video su argomenti particolari o aggiornamenti incredibili a meno che davvero non succeda qualcosa di molto molto importante e sconvolgente ma questo no perché abbia nessun tipo di problema o mi sia successo qualcosa di particolare perché poi ovviamente la gente parla la gente non sa è normale da poco stavo parlando con una mia amica che è fan di come si chiama Anle la Sagra e mi stava dicendo che è sparita completamente quindi ci sta che la gente si faccia domande che dica ma perché è sparito ma perché ma perché quello per quell'altro non c'è nessun motivo specifico semplicemente ho altre priorità ho cose da fare e comunque YouTube porta via tempo chiaro che faccio video che non hanno chissà che montaggio chissà che produzione anzi è praticamente inesistente però però comunque porta via tempo mettermi fare il video trovare le foto montarlo esportarlo caricarlo ogni giorno non dico ogni giorno poi ce ne sono stati periodi in cui ne ho fatti molti di video e comunque dover sempre pensare che devo fare un video dover pensare a questo a quell'altro dover pensare agli argomenti perché chiaramente io non è che sto parlando non faccio vlog non sto documentando tutto quello che faccio nella mia vita quindi è anche difficile trovare argomenti di nicchia di bodybuilding costantemente per quanto poi impegnandomi ne troverei il discorso è che non ho tutta questa voglia di impegnarmi costantemente giorno dopo giorno per per pensare a che argomenti fare solo perché devo fare il video di bodybuilding contando anche che ho altre cose da fare che ritengo più importanti più più tutto e quindi per essere quasi un lavoro fare i video su youtube non ne vale la pena e i motivi sono questi quindi non c'è niente di grave o di niente bodybuilding ovviamente mi piace e continuo a seguirlo però ci sono persone che ci vivono di youtube quindi è anche giusto tra virgolette che si impegnino e portino dei prodotti che per quanto possano piacere o meno sono un prodotto che porta via tempo porta via energie e che comunque in certi casi però porta anche un bel rientro economico io non ho un rientro economico tale da poter giustificare tutto l'impegno che metto in questi video quindi i motivi sono questi quindi cercherò di essere comunque presente in qualche modo però non penso che lo sarò come lo sono stato finora e come lo sono stato negli ultimi due mesi che ho davvero fatto molti video mi sono impegnato molto ma comunque non è una cosa che vale la pena fare a lungo termine diciamo se per quanto sia appassionato porta via tempo energie come ho detto senza un rientro che giustifichi tutto ciò perché a me fa molto piacere quando mi dicono che faccio i miei video quando so che i miei video sono apprezzati ma lo so perché credo sia evidente che lo faccio perché mi piace il bodybuilding che ho davvero una passione per questa disciplina però ovviamente non devo tralasciare le cose più importanti della mia vita per una cosa che non posso fare solo per far piacere agli altri mettiamola così comunque ci sentiamo presto buona